. Maurizio Costanzo spiazza Maria De Filippi, ecco la dedica d'amore per la moglie. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alle gossip news sui personaggi dello spettacolo italiano. . Senza dubbio Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono le colonne portanti di Mediaset, grazie ai loro programmi, riescono ad ottenere degli ottimi ascolti auditele introiti e pubblicitari. . Come tutti ben sanno i due artisti sono sposati da molto tempo e, secondo quanto dichiarato dal giornalista, la loro relazione si consolida sempre di più, anno dopo anno. . Andiamo a vedere cosa ha recentemente rivelato il 79enne. . . Il conduttore Capitolino intervistato da oggi fa una dedica d'amore alla De Filippi. . Alcune ore fa Costanzo ha rilasciato un'intervista a Oggi, il periodico diretto da Umberto Brindani. . Il conduttore romano parlando della moglie ha affermato, Maria De Filippi è certamente l'amore per me. . I due si sono conosciuti negli anni 90 quando la De Filippi lavorava per una società di consulenza per la comunicazione. . Nell'agosto del 1995, dopo aver divorziato da Marta Flavi, Maurizio decise di sposare Maria e da allora non si sono più separati. . . Il giornalista, che prossimamente tornerà al timone dell'intervista su Canale 5, ha rivelato che tra poco festeggerà le nozze d'argento. . . . . . . . . Dozze d'oro, ha dichiarato Costanzo. Quest'affermazione certificano che Maurizio è ancora molto legato alla moglie. Il 79enne, inoltre, ha affermato anche che la malinconia è stato l'antidoto alla depressione. Cosa farà la De Filippi dopo questa inaspettata dedica d'amore?. Costanzo difende Fabio Fazio e declina l'invito a diventare il direttore generale della RAI. Intervistato dal settimanale Oggi, Costanzo ha parlato anche di televisione. Il giornalista Capitolino ha rivelato che non ricoprirà mai il ruolo di direttore generale della RAI perché sarebbe troppo faticoso per lui. Maurizio, inoltre, ha preso le difese del collega Fabio Fazio che ultimamente è stato aspramente criticato dal popolo del web. Secondo il marito della De Filippi, il conduttore di Che Tempo Che Fa è un ottimo professionista e sa fa fare bene il suo lavoro. In attesa di rivedere Costanzo alla guida della nuova stagione dell'intervista che sicuramente andrà in onda il giovedì in seconda serata, vi consigliamo di cliccare il pulsante Segui canale Gossip qui su Blasting News. Grazie a tutti!